Potrei anche dire che stiamo parlando di un film accettabile, quantomeno accettabile, ma mi crescerebbe il naso e non ci tengo. Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova recensione. Oggi parliamo di Pinocchio, film remake live action del classico Disney degli anni 40, secondo film in assoluto tra l'altro dopo Biancaneve e i Settenani, uscito oggi su Disney+, fortunatamente solo su Disney+, in occasione del Disney Plus Day. E dico fortunatamente solo su Disney+, perché a pensare che avrei potuto anche pagare un biglietto per questo film... Anche no, grazie, davvero. Prima di iniziare con la recensione però come sempre vi invito a seguirmi su tutti gli altri miei social, trovate i link nella descrizione, Instagram, Twitter e TikTok, tutto in descrizione. Su TikTok stiamo quasi per arrivare a 5000 follower, quindi se volete dare un aiuto, il link appunto è qui sotto. Assieme al link degli altri social e il link di Pampling, il sito di t-shirt e articoli nerd, dove troverete il design che indosso oggi in questa maglietta di The Office, stupenda la mia serie preferita, e al momento tutte le t-shirt del sito costano solo 10€. Questo ancora per qualche giorno e poi non si sa se e quando tornerà questa promozione. Quindi se volete acquistare qualche t-shirt, approfittatene adesso perché è il momento giusto. Tra l'altro c'è sempre il mio codice, il pensiero 4, che vi dà la possibilità di scegliere un paio di calze, inserirle nel vostro carrello e vi verranno regalate, 0€, nessun centesimo, calze gratis con il codice ILPENSIERO4, e niente, passiamo a parlare di Pinocchio. Premesso che io non ho mai letto la storia originale, conosco alla lunga diciamo quello che succede, anche per vie traverse tra l'altro, per le diverse interpretazioni della storia, per i diversi prodotti tratti da quella storia, però l'originale di Carlo Collodi non l'ho mai letto. E tra l'altro il classico Disney, al contrario di molte persone, non è nemmeno il prodotto di Pinocchio con cui sono cresciuto per lo più. Sì, naturalmente lo guardavo tantissime volte da piccolo, ma il prodotto di Pinocchio che ho visto più volte in vita mia è la serie TV italiana, degli anni 70, in cui Geppetto era interpretato da Nino Manfredi. Poi è stato anche fatto un film da questa serie tagliuzzando qua e là qualche scena, ma ditemi che la conoscete, perché è una parte importante della mia infanzia. Comunque, questo per dirvi che, appunto, Pinocchio in generale mi piace come storia. E infatti cerco di vedere quasi tutti gli adattamenti possibili, quelli più famosi almeno. Devo dirvi che, fino a poco tempo fa, attendevo persino questo Pinocchio della Disney, perché volevo vedere come avrebbero trasposto in live action quello che hanno già cambiato loro dalla storia originale con il classico Disney degli anni 40. E in poche parole posso dirvi che già quello è diverso dalla storia di Collodi. È ok, accettabile. Ma questo è persino il triplo diverso dal classico originale. Come primissima cosa parlerei dei personaggi. Il primo personaggio che si vede a schermo è il grillo, il grillo parlante, la coscienza di Pinocchio. Ok, il personaggio in quanto CGI è terribile, mi fa davvero ribrezzo. E in fin dei conti non è neanche l'unico personaggio in CGI che fa paura. Però il modo in cui l'hanno presentato, questo narratore che, cosa che faceva anche nel classico, rompe la quarta parete parlando con lo spettatore, ci potrebbe anche stare. Poi ci sono diverse scene copiate e incollate dal film Disney, quindi ok, nulla di che, come soliti remake. Almeno nella maggior parte dei casi, vero Mulan? Poi passiamo subito a Geppetto. Geppetto interpretato da Tom Hanks che in questo film sembra uno strafatto. Ovviamente è il Geppetto non così tanto povero del classico Disney, quindi ha tanto di camino, ha 6.000 orologi. E poi parleremo degli orologi nella parte spoiler, perché ho una cosa da dire che, non voglio dire, qui magari potrebbe sembrarvi spoiler. Comunque il film l'ho visto doppiato, anche se nella parte iniziale, almeno i primi 15 minuti, ho voluto vederli in lingua originale per sentire se Tom Hanks avrebbe aggiunto un accento un po' italiano al suo modo di parlare. E così è stato. Accettabile, non è così tanto stereotipato, mamma mia, pizza, pasta, mandolino. Tom Hanks, quindi, è sempre Tom Hanks. Come ho già detto, il Grillo non è l'unico personaggio in CGI terribilmente creato. Infatti abbiamo anche Figaro, un gatto, un gatto normale, nemmeno antropomorfo come il gatto del Gatto e la Volpe. Un gatto normale che potevano tranquillamente realizzare, non realizzare, prendere un gatto e metterlo davanti la camera, semplicemente. E magari modificandolo con la CGI, qualcosina, qualche movenza, ma non realizzarlo totalmente in CGI, tanto che quando magari viene preso in mano da Geppetto diventa molto, molto più piccolo di quando non è in mano a qualcuno. Cambia dimensioni continuamente questo Figaro. E poi passiamo a Cleo, il pesce di Geppetto che è probabilmente un personaggio di un film horror. E naturalmente personaggio più importante, dà il nome al prodotto, anche Pinocchio è in CGI, perché non esiste il legno vivente. Quindi fatto interamente in CGI quando si muove, invece quando all'inizio è semplicemente un burattino e quindi inanimato, è reale. Tanto che si vede la differenza quando Geppetto, quando un personaggio umano reale lo tocca o comunque gli sta vicino. Pinocchio è il personaggio più importante, ma allo stesso tempo per quanto mi riguarda è uno dei problemi più importanti. Infatti mi fa stracacare il fatto che abbiano semplicemente realizzato un modello 3D del personaggio del classico Disney. Non l'hanno modificato davvero in nulla. E il personaggio 2D del classico, realizzato con una texture legno che ogni tanto diventa plastica, perché ovviamente la CGI è terribile, nella maggior parte dei casi è terribile, soprattutto per Pinocchio che è il protagonista. Sembrava davvero di star guardando qualcosa degli inizi degli anni 2000, quindi terribile. Quando anche lui viene tenuto in braccio si vede proprio 3 metri di distanza tra la mano di Geppetto e il braccio di Pinocchio, vabbè. Ma passiamo alla polemica del giorno, o meglio dell'anno, perché infatti la fata turchina qui è nera. Fan e non di Pinocchio tutti impazziti per questo dettaglio. Anche abbastanza poco rilevante, vista l'importanza del personaggio in questa versione di Pinocchio. E per quanto mi riguarda, so che può sembrare strano sentirselo dire, ma è ovvio che Disney ha fatto questa scelta per far parlare del film e per avere sempre quel senso di inclusività. Però alla fine sono polemiche abbastanza inutili, quelle che abbiamo sentito finora, perché appunto, ripeto, il personaggio totalmente inutile, come la maggior parte del film, anzi non tutto il film, abbastanza inutile. Poi tra l'altro la scena in cui compare, l'unica scena in cui compare la fata turchina, è un bel po' trash. E tra l'altro quelle non sono ali, sono parti qualsiasi di una medusa. Tralasciando il fatto che l'abbiano resa nera qua la fata turchina, anche nel classico Disney è totalmente sbagliata la rappresentazione della fata turchina, perché a dare il nome al personaggio fata turchina non è il vestito, bensì i capelli nella storia originale. E nel classico, lo sappiamo, la fata turchina è bionda. Ma sto perdendo tempo su questo dettaglio davvero inutile, tanto quanto il personaggio. Mentre nelle altre trasposizioni o nella storia originale direttamente, la fata turchina è importantissima, qui è stata ridimensionata davvero tanto. E infatti ho sentito che la sua parte, la parte della fata turchina in questo remake, è stata data a un nuovo personaggio che sinceramente non penso sia originale della storia di Collodi, almeno non così tanto importante come lo fanno vedere in questo film, ovvero il personaggio di Sabina. Non voglio dire tantissimo su questo personaggio, visto che appunto mi sembra essere qualcosa di originale dal film, o comunque qualcosa di diverso, molto diverso. Fatemi sapere nei commenti se voi avete letto l'opera di Collodi. Appunto voglio avere più informazioni riguardo questo personaggio di Sabina, sempre se esiste realmente anche nell'opera originale. Però anche se ho sentito che la maggior parte del ruolo della fata turchina è stato dato a questo nuovo personaggio, l'avrei voluta un po' più approfondita, soprattutto per un piccolo dettaglio che... piccolo ma importante dettaglio che ha il personaggio. Finora non ho parlato esattamente benissimo di Pinocchio, non so se ve ne siete accorti, però c'è qualcosina che ho apprezzato. Due volte sono riuscito anche a sorridere, tra le tante battute che il film cerca di fare per far divertire per lo più i bambini naturalmente, però a guardare il film lo sanno anche loro, lo sa anche Disney, non ci sono solo bambini. E penso anche che in realtà le cose positive siano finite qui, però magari mi viene anche qualcos'altro in mente mentre parlo a macchinetta. Una cosa è sicura e l'ho già detta, hanno cambiato totalmente la storia del classico Disney, che era già diversa dalla storia di Collodi. Hanno aggiunto cose che lì non c'erano ma che c'erano nella storia originale, ne parlo poi nella parte spoiler perché magari c'è qualcuno che non lo sa. Ci sono dei retroscena di cui nel film animato non si era mai parlato, invece qui abbiamo più informazioni riguardo un passato di un certo personaggio. Però allo stesso tempo, proprio come il personaggio di Sabina, ci sono nuove cose che non si sono mai viste, né nel classico né nella storia originale. Poi ci sono anche delle fusioni, alcuni riferimenti ad alcune parti del romanzo che si sono dimenticati in altre trasposizioni. È un po' un casotto questo film, è una fusione tra la storia originale e il classico Disney, vabbè, qualcosa a quanto pare quello che volevano fare con Mulan, per esempio. Stavolta però le canzoni le hanno lasciate, sono sempre belle le musiche di Pinocchio, quindi ok, non ho niente da dire. Questo, un altro punto a favore del film, quel mezzo punto, un punto in più, perché comunque sono le stesse canzoni che ho sentito per tutta la vita, anche se ce n'è in realtà qualcuna nuova, ma dietro abbiamo comunque Alan Silvestri, quindi ok, la musica, altro punto in più per Pinocchio. E tra l'altro mi duole dirlo, ma mentre guardavo il film, pensavo alla regia dicendo, vabbè, dietro ci sarà sicuramente il solito mestirante assoldato da Disney per fare un film casuale, così che potrei farlo anch'io. Ma l'avevo totalmente dimenticato, dietro la macchina da presa c'è Robert Zemeckis. Zemeckis, che cosa ti è successo? È un film totalmente anonimo, un film come gli altri, non c'è nulla che possa far capire che dietro ci sta Robert Zemeckis, se non il fatto che è un film per bambini, trattato per bambini, però davvero terribile. Inoltre deve capire bene la sua identità, deve sapere se è un film molto realistico, diciamo così, oppure un film totalmente cartunesco, perché sì, siamo in un mondo in cui esistono le fate turchine, i grilli parlanti, i gabbiani parlanti, un'altra cosa di cui non voglio parlarvi, perché potrebbe essere spoiler, ne parliamo dopo, il gatto e la volpe, un pezzo di legno che inizia a parlare, ok, mondo fittizio, abbastanza finto, perché queste cose non esistono, non so se lo sapete, ma da come ci viene presentato, come del resto anche la maggior parte degli altri remake, live action, Disney, è un mondo in cui la fisica funziona e dovrebbe funzionare in tutti i casi, non si dovrebbe passare da una scena normalissima possibilmente in un mondo reale, a una scena in cui un personaggio tira fuori da un cappotto piccolissimo un martello enorme, o le incongruenze sul fatto che Pinocchio abbia la possibilità di decidere se galleggiare oppure no, essendo fatto di legno, ok. Lo dico e sembra strano dirlo per Pinocchio, ma la sospensione dell'incredulità è stata messa davvero a dura prova. Prima di passare al voto e alla parte spoiler vorrei dire che ad un certo punto, non so dirvi esattamente quando, ho chiuso gli occhi per qualche minuto. Certo, poi ho ripreso il film dall'ultima scena che ricordavo, però è abbastanza difficile che io mi addormenti con un film che mi interessa, diciamo tra virgolette, perché non mi interessava in realtà dopo il trailer visto, ma volevo fare la recensione, quindi dovevo stare comunque attento, e mi sono addormentato. Per pochissimo, eh, non così tanto, però è successo. Infatti per quanto mi riguarda, quasi due ore di questo tipo di film è troppo per Pinocchio. Bisognava assolutamente asciugare certe cose. Comunque ragazzi, il voto che do a Pinocchio, e potete anche intuirlo da soli, perché non ne ho parlato esattamente bene per tutto il video, è un 4. 4 su 10, eh. Do un 4 e non direttamente un 2, perché comunque c'è qualcosina che mi è piaciuta. Il gatto e la volpe, sì, sono molto realistici, sono anche fatti benino in CGI, sono gli unici personaggi che compaiono poco, sì, però sono accettabili in CGI, anche se cambiano totalmente diventando effettivamente un gatto e una volpe. La testa di un gatto e una volpe attaccate a un corpo umano, però ok, è il male minore, assolutamente. C'è qualcosa che potrebbe salvarlo, tra cui le canzoni, appunto, e qualche piccola battutina che mi ha fatto sorridere, ma no, per lo più è un film da buttare per quanto mi riguarda. E mi dispiace che dietro ci sia davvero il nome di Robert Zemeckis, associato anche a quello di Tom Hanks, per esempio. Meno male che non ho dovuto sganciare dei soldi per il biglietto al cinema. Azzardo dicendo che potrebbe essere uno dei peggiori, se non il peggior, remake live action degli ultimi tempi. Ma ragazzi, se ancora non avete visto il film e non volete beccarvi qualche spoiler da Pinocchio, chissà che grande spoiler devo farvi su Pinocchio, uscita da questo video perché entrerò nei dettagli tra 3, 2, 1. Iniziamo con le cose che penso siano prese dalla storia originale e non dal classico. Dal classico sicuramente no. Ovvero il fatto che qui Geppetto crea Pinocchio perché gli manca il figlio morto. Cosa che poi tra l'altro rivedremo anche nel film in stop motion in arrivo nel periodo natalizio su Netflix, quello sì che lo attendo. Anche se dietro c'è Gielmo del Toro che non mi fa impazzire nella maggior parte dei casi, però, ripeto, se si parla di Pinocchio sono curioso di vedere tutto. E oltre al figlio morto si parla anche della moglie. Mi pare che nel classico venga citata per pochissimo, non lo vedo da tanto, quindi scusatemi se sbaglio, però mi pare venga citata una moglie, una fantomatica moglie di Geppetto, ma il figlio no. Qual è il dettaglio in realtà easter egg che mi hanno però fatto storcere il naso riguardo gli orologi? Se avete visto il film lo sapete, gli orologi contengono film Disney. E non solo classici Disney come Biancaneve, Il Re Leone, Dumbo, La Bella Addormentata nel Bosco, abbiamo anche un orologio con Woody, Woody di Toy Story, e Jessica Rabbit che bacia Roger Rabbit. Per quale motivo mi ha fatto storcere il naso questa cosa? Beh, se fossero stati tranquillamente degli easter egg sullo sfondo, che così solo per far sorridere i fan di quei film o comunque dei film Disney in generale, ok, mi sarebbe anche andata bene. Ma no che ci sono intere scene in cui la camera indugia proprio sulle statuette di legno di questi orologi per far vedere, guardalo, guardalo, guardalo che rafichi che alza Simba, guarda Dumbo che esce dall'orologio. Se vuoi fare un easter egg carino, lascialo come easter egg sullo sfondo o una sola volta una scena del genere con due orologi massimo, non 50 orologi per scena in cui ti avvicini così tanto all'easter egg che vuoi far vedere. Comunque abbiamo capito un paio di cose. O Geppetto in questo film è un viaggiatore nel tempo alla Terminator, oppure il tizio a cui ha venduto gli orologi era Walt Disney per qualche strano motivo e appunto ha preso spunto da questi orologi per creare le storie dei classici, anche se vabbè, sono film tratti da storie già esistenti. E infatti ovviamente scherzavo. Ho già detto che il film si poteva tranquillamente asciugare di molto, togliendo un minutaggio, però devo ammettere che si sono concentrati su delle scene che non mi interessava vedere, mentre magari tutta la parte al Paese dei Balocchi, volevo vederla perché è una delle mie parti preferite del classico Disney, che diventa horror in quella parte, davvero. Qui ci sono delle scene copiate incollate dal classico, come per esempio Lucignolo che si trasforma, ma lo vediamo trasformarsi nell'ombra. E infatti è una scena che mi piace tantissimo dal classico Disney, però resa in live action nel 2022 ormai non è nulla di che, però vabbè, non ne faccio un dramma sicuramente. Solamente avrei voluto vedere un po' di più il Paese dei Balocchi e non arrivare subito alla trasformazione dei due. Tra l'altro qui Pinocchio si stava trasformando in un ciuchino versione legno, ok? E non ho comunque assolutamente apprezzato il fatto che, intanto diventi di nuovo di legno, semplice, senza parti aggiuntive, prima di incontrare Geppetto, comunque prima di finire in acqua, ma soprattutto non ho apprezzato il fatto che Geppetto e Pinocchio si incontrino fuori. Che tra l'altro, vabbè, il gabbiano Sofia, se non sbaglio, si chiama Sofia, sì? Prima dice che non può prendere Pinocchio e portarlo in volo, però poi lo trascina, che è anche peggio possibilmente di tenerlo in volo. Tutta quella scena, per esempio, lunghissima, inutilmente lunga. Solo per arrivare al momento in cui la balena, oh no, mostro marino, ragazzi, si è passato dal pesce cane, o comunque pesce non identificato della storia originale, ma molto simile a un pesce cane gigante, a una balena nella storia del classico Disney. Ora un mostro marino, che è un'unione tra uno squalo, una balena, e una piovra, ho visto tentacoli, ho visto roba tutta assieme, cosa è successo? Comunque, si incontrano fuori dall'acqua per poi arrivare entrambi nella bocca di questo mostro marino. Io pensavo davvero che il grillo parlasse di mostro marino perché non sapesse dell'esistenza delle balene, in qualche modo, quindi mostro marino, no, invece veramente un mostro, tra l'altro a volte fatto bene, a volte male. L'acqua è terribile, infatti le scene dentro la bocca del mostro sono terribili, l'acqua sembra slime, una roba, non ve lo so dire, terribile. La CGI fa acqua da tutte le parti, scusate. E basta, alla fine escono molto facilmente dalla bocca del mostro, ci ritornano per pochissimo, poi escono una seconda volta, e tanto per cambiare, il film finisce in modo diverso dal classico Disney, infatti Pinocchio non diventa un bambino, ma si accontentano semplicemente del fatto che Geppetto dice, per me sei comunque un bambino reale. Poi vabbè, ok, il cliché della lacrima, se non sbaglio però c'era anche nel classico, non tengo conto di queste cose ovviamente. Mi ha fatto davvero strano vedere totalmente sparire alcuni personaggi dopo una sola scena, massimo due, per esempio, la fata turchina che nel classico compare più di una volta, ma qui appunto la fata turchina è Sabina, in poche parole Sabina è la tizia che muove l'altra marionetta, no, Sabina era la marionetta se non sbaglio, però comunque fa lei la parte della fata turchina, non magica, infatti c'è stata la fata all'inizio, poi basta. E il gatto e la volpe, il gatto e la volpe scompaiono dopo la scena in cui portano Pinocchio a Mangiafuoco. Avrei voluto rivederli dopo magari dare a loro il compito di portarlo al paese dei Balocchi invece di farlo pescare così totalmente a caso, perché la decisione deve essere proprio di Pinocchio di andare direttamente al punto di incontro per il paese dei Balocchi, non deve essere convinto solamente dopo solo perché il cocchiere gli canta una canzone. Tornando al finale appunto, lui non si trasforma in un bambino reale, non mi è piaciuto assolutamente come finale, come la maggior parte del film, come la maggior parte dei cambiamenti, e anche in realtà di alcune aggiunte che potevano tranquillamente tralasciare. E niente ragazzi, fatemi sapere con un commento qui sotto se avete visto il film, sì, se siete arrivati a questo punto del video penso l'abbiate visto perché, anche se stiamo parlando sempre di Pinocchio, alcuni spoiler si potrebbero pure fare. Vi ricordo ancora una volta che in descrizione trovate i link dei miei social, Instagram, Twitter e TikTok, tutto in descrizione assieme al link di Pampling per prendere questa fantastica t-shirt che è un po' la mia sensazione dopo aver visto Pinocchio. Tutte le t-shirt al momento sono a 10 euro l'una e ovviamente il mio codice ilpensiero4 è sempre compatibile con queste promo e vi permette di avere un paio di calze gratis a scelta. E niente, io sono Andri, questo è stato un altro mio pensiero per voi, noi ci vediamo in un prossimo video sempre su questo canale, Andri passa e chiude. Ciao!